Uno stile di vita equilibrato ed una sana alimentazione. Sono queste le regole da seguire per prevenire il diabete che colpisce 3 milioni di persone in Italia. In Puglia, dice Stefano Favale, direttore della scuola di specializzazione in cardiologia dell'Università di Bari, si ritiene che oltre 200.000 pazienti, cioè il 5% della popolazione, siano affetti da diabete. Fra i soggetti maggiormente colpiti ci sono gli obesi, di cui la necessità di seguire diete e i fumatori. Durante il convegno barese che ha visto, relatore anche il professor Francesco Giorgino, sono stati illustrati i risultati di Navigator, uno studio internazionale che ha valutato oltre 9.000 pazienti con ridotta tolleranza al glucosio, considerata una condizione prediabetica. Il Navigator ha valutato la capacità di un farmaco, il Val Sartana, appartenente alla famiglia dei Sartani, di ritardare in pazienti oltre 50 anni con alcuni fattori di rischio, di ritardare l'avvento del diabete. Quindi in questo senso, aggiunto allo stile di vita, che comprende la riduzione del peso, l'attività fisica ben definita in 150 minuti a settimana di passeggiate o di altre attività, il controllo della dieta, soprattutto glicidica e lipidica. Questo Sartano ha mostrato una riduzione di propensione alla evoluzione verso il diabete del 14%. Laddove occorra trattare l'ipertensione e proteggere gli organi, questo farmaco dà un beneficio aggiuntivo che riguarda appunto lo sviluppo di questa importante malattia metabolica.